essendo gesù passato di nuovo in barca all'altra riva gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare e venne uno dei capi della sinagoga di nome giairo il quale lo vide gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza la mia figlioletta sta morendo vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva andò con lui molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio anzi piuttosto peggiorando udito parlare di gesù venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello diceva infatti se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti sarò salvata e subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male e subito gesù essendosi reso conto della forza che era uscita da lui si voltò alla folla dicendo che ha toccato le mie vesti i suoi discepoli gli dissero tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici chi mi ha toccato egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo e la impaurita e tremante sapendo ciò che le era accaduto venne gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità ed egli le disse figlia la tua fede ti ha salvata vai in pace e si guarita dal tuo male stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire tua figlia è morta perché disturbi ancora il maestro ma Gesù udito quanto dicevano disse al capo della sinagoga non temere soltanto abbi fede e non permise a nessuno di seguirlo fuorché a Pietro Giacomo e Giovanni fratello di Giacomo giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte entrato disse loro perché vi agitate e piangete la bambina non è morta ma dorme e lo deridevano ma egli cacciati tutti fuori prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina prese la mano della bambina e le disse talitacum che significa fanciulla io ti dico alzati e subito la fanciulla si alzò e camminava aveva infatti 12 anni essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare cari amici in questa domenica che stiamo camminando no ed è la tredicesima domenica continuiamo il vangelo ricordo il vangelo di marco viene corgette domenica dopo domenica siamo arrivati al capitolo 5 del vangelo di marco la liturgia ci fa leggere da una parte i testi dell'antico testamento questa domenica il libro della sapienza i testi del paolo prima corinzi adesso siamo nella seconda corinzi vedete i testi paolini e dall'altra il vangelo di marco lentamente no non in modo continuativo secondo alcuni testi però in modo marco ci accompagna e allora mi piace ricordare a 222 ricordare in questa domenica perché possiamo celebrare bene nell'eucarestia o almeno meditare sulla parola smontiamo due concetti che alcune volte noi se non stiamo attenti nella nostra catechesi assimiliamo la prima dio non ha voluto la morte sia chiaro dio non è venuto per punire e per farci morire alcune volte noi pensiamo che è dio che ha voluto creare l'uomo limitato dio ha creato l'uomo e l'uomo è limitato ma la morte è un'altra cosa la morte non è il limite dell'uomo la morte è la condizione che non accetti il tuo limite quindi la morte è causa del peccato cioè quando io non mi accetto perché c'è modo e modo di morire Gesù ce l'ha rivelato no c'è chi muore riconoscendo pensa francesco d'assisi e quindi dicendo non è la fine sono io sono fine e quindi devo accettarlo ma purtroppo il peccato ci fa perdere di vista questa compagnia di dio per cui moriamo disperati ma l'uomo non è chiamato alla morte alla vita e quindi è un passaggio non è una conclusione ma questo ovviamente se non vivi con dio è faticoso dopo il peccato sei chiuso in te stesso credi di essere come dio capite il peccato e allora ti sembra assurdo come fa a essere luminato quindi il mito della vita eterna sulla terra è un mito state tranquilli perché poi dopo un po qualcuno direbbe basta 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 voglio finire e quindi meglio imparare a capire come imparare a finire piuttosto che a pensare che non si potrà mai finire poi se noi possiamo vivere un po di più perché no però la domanda non è se vivi di più ma come vivi qua giù e allora in questo senso è bellissimo il testo perché dice marco che gesù ha fatto un miracolo duplice è uno dei pochi miracoli duplici in cammino cioè gesù viene chiamato perché c'è una una ragazzina figlia del capo della sinagoga probabilmente ecco a sinagoga di cafarnolo perché era stato molto bravo aveva fatto che era non stava bene mentre sta andando presso la casa di questo capo una donna emoroissa quindi è un problema di medicina vedete che i problemi medici della sanità esistevano già ai tempi di gesù aveva speso un sacco di soldi con medici che non ce l'ho con i medici anzi però l'avevano sfruttato e sfruttata allora lei cosa fa tocca il mantello di gesù gesù si sente che è una potenza di lui e qui dirò la seconda cosa che dobbiamo togliere cioè l'idea della fede come magia prego si realizza la fede dio che ha creato la morte sbagliato dio ha creato per la vita la morte casata dal peccato dall'ontanarsi da dio perché non capisco più la mia vita secondo la fede come miracolo se preghi ti guarisce l'ulcera no Gesù cosa fa si ferma e dice chi mi ha toccato bella questa cosa no il miracolo non dimostra la fede devi avere fede allora poi incontrerai gesù non è andando a messa la domenica che fai il precetto capite cosa ci sta dietro per cui ti senti buono no 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 non è sufficiente cari andare a messa anzi se vai a messa non ti devi sentire buono ti devi sentire impegnato a portare il vangelo quindi la tua la tua domenica non finisce con la messa inizia con la messa se no non è è magia magia come questa donna allora Gesù dice chi mi ha toccato la donna spaventata dice sono io signore allora la guarisce allora così quando arriva di nuovo il secondo miracolo è oramai è morta allora e lui dice uomini di poca fede non dorme vedete la fede in Gesù ci fa leggere che cosa la sua presenza lo dicevo già domenica scorsa lo dicevo scusatemi nella festa di san giovanni battista ciò che conta non è il rito ma ciò che è espresso dal rito maressa la realtà cioè la mia domanda quando vado a messa non è come è stata fatta la messa ma ho incontrato Gesù la sua parola è la parola di Dio anche l'omelia importante ma non è quella che fa il prete ma quella che attraverso le parole del presbitero attraverso le parole dei fratelli entro in un incontro personale comunitario con Gesù questo è importante capite questo è fondamentale a tal punto che paolo nella seconda lettera nella nella lettura di oggi dice proprio così no come vi segnalino le cose nella fede la parola nella scienza nel zelo che vi abbiamo insegnato così distinguetevi anche in quest'opera conoscete infatti la grazia del signore nostro da ricco chi era si è fatto povero la bellezza di Dio è che non ci vuole mani non ci vuole abbagliare facendoci dei miracoletti no ma è silenzioso aspetta a te ascoltare il profumo della primavera aspetta a te ascoltare i passi silenziosi di Dio che passa attraverso il mistero della storia e allora sì che incontrerai il signore lo incontrerai nella eucaristia nella sua parola nel fratello dove meno te l'aspetti se no sarai come quello lì che cerca qualcosa e lo vuole decidere lui che cosa mentre invece noi siamo chiamati a guardare non a decidere ad ascoltare non a decidere se ascoltiamo bene se guardiamo contempliamo bene sapremo scoprire la vita cristiana è una caccia al tesoro e questo mi sembra molto bello altrimenti non sapremo capire i miracoli di Dio e cercheremo Dio come giustificazione allora vorrei pregare per tutti noi perché impariamo ad essere degli scopritori rapdomenti del regno che sapete quelli che cercano l'acqua qualcosa noi possiamo soltanto dire indicare dove la sorgente non siamo noi la sorgente e non siamo noi che faremo il pozzo può darsi che siano gli altri noi siamo indicatori del regno buona domenica a tutti grazie 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 grazie